Salve e benvenuti al nostro speciale approfondimento di Gusano News 7, uno speciale approfondimento dedicato allo spettacolo, all'arte, alla cultura e anche al teatro, perché sta andando in scena in questi giorni al Teatro Golden di Roma, uno spettacolo che ha avuto un grande successo nelle stagioni passate, è stato uno dei maggiori successi in cartellone al Teatro Sistina e si intitola È cosa buona e giusta. Un buon predattore deve avere una riduzione peppetta, eh, tente capite quando parli, le noccan ditti, gli atti, gli mangi le parole. Penso positivo perché son vivo e perché son vivo, io penso positivo perché son vivo e perché son vivo. Il Knockin' Die è un'arte marziale pugliese che ti permette di raccogliere energia nelle nocche delle mani e poi sta, 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 basta, mi vicino. La casa costruttrice del Califone, sentiamo se il meccanico lo sa, era? La Rizzato di Bergamo. La Rizzato di Bergamo, tu te immagini il tentativo di riaccompagnare una ragazza a casa? Che vuoi un passaggio? C'ho il Califone Rizzato. Trommamici se può sentire. No, signore, non è in quartetto dei fiati. Tu c'hai i quattro rumori, la durata del lento per poter concludere qualcosa. Io volevano quattro, cinque feste, col metodo mio pure otto, nove. Lo segreto è qua, il strato di schieno. La strada, ragazzi, la strada è proprio maestra di vita. Il protagonista del film Passion. Cristo santo, è un periodo che non mi vengono gli nubi, oh. Hai capito che stai a filmare la patonza di quella a cui hai giurato amore eterno? No, ma io ti ringrazio a nome di tutti, così quando incontreremo tu moglie sarà più facile riconoscerla, no? Ma chi è? Elisa? Apri un po' le gambe? Ah, ma come no? Digni il conto, è buono te. Digni il conto, è giusto te. Ricerca la bellezza, che al cuore una carica ti darà. Questa è la bellezza, cercala. Questa buona e giusta, nasce dentro al cuore e scoppierà. E allora molti avranno già riconosciuto l'autore e protagonista di questo spettacolo e oggi è qui con noi Michele Laginestra. Michele, benvenuto. Buongiorno a voi. Buongiorno. Che bella emozione. Non ti vedo anche se ti sento, ecco, adesso ti vedo. E allora... La voce dall'alto. Esatto, da sacerdote addirittura entità spirituale. Sì. Allora, questo spettacolo è stato in scena nelle stagioni passate da Sistina, viene riproposto e è nuovamente un grande successo per Cosa Buona e Giusta. Sai, è uno spettacolo che piace, che coinvolge un po' tutti, i giovani, gli anziani, gli adulti, perché racconta la storia di tutti noi, il confronto generazionale tra noi un po' più grandicelli, questi ragazzi che stanno cercando di capire cosa fare da grandi e noi abbiamo avuto la possibilità di confrontarci in diretta con questi giovanotti e raccontando il nostro passato scopriamo che in fondo non ci sono troppe diversità tra quelle che sono le esperienze che abbiamo fatto noi e quelle che fanno i ragazzi oggi come oggi. Insomma, è un bel confronto generazionale nel quale io racconto anche i miei fallimenti, anche le mie difficoltà, per stimolare però questi giovani a sognare, ma non solo i giovani, anche tutti quelli che ascoltano lo spettacolo, devono ricevere uno stimolo ad inseguire i propri sogni, perché poi dopo i sogni se li segui con grinta li realizzi. Allora, io al di là della chiave comica che si è vista anche nella grippa che abbiamo visto in precedenza, stavo ridendo mentre ero fuori onda, anche se avevo già visto lo spettacolo e conoscevo le battute, c'è però quindi una sorta di indagine sociologica che viene fatta attraverso il testo che propone in scena. Ma sai, il teatro deve essere un po' una forma, non dico di educazione sociale perché sarebbe troppo, però deve stimolare delle riflessioni, dei confronti tra le persone che vengono a vedere lo spettacolo, perciò è importante anche fare delle analisi profonde e non superficiale, cioè la ricerca della risata non deve essere fine a se stessa e perciò piano piano, insomma affrontando questi temi tra una risata, un sorriso, io penso che si possa spingere a questo confronto tra le persone che vengono a teatro e che uscendo fuori dice ma ci avrà voluto dire questo o quest'altro? Questo secondo me è lo stimolo che deve portare Le persone che vengono a teatro e il pubblico che viene a vedere questo spettacolo è in maggioranza il pubblico adulto dei, diciamo, tuoi coetanei che ritrovano una gioventù lontana del tempo oppure proprio quella dei ragazzi, degli altri protagonisti della commedia? Guarda, nei due anni al Sistina abbiamo scoperto che tanti genitori venivano e riportavano i propri figli a vedere lo spettacolo perché era un messaggio positivo, cioè tutto quello che dicevano loro non viene ascoltato perché nessuno è profeta in patria, quando invece parlavo dal palcoscenico o qualcun altro dà dei messaggi positivi è più facile da ascoltare perciò abbiamo avuto grandi consensi dai giovani, il problema è come portare i giovani al teatro e allora noi ci affidiamo ai genitori, al passaparola, è importantissimo che le famiglie si smuovano e si devono da fare, insomma questo abbiamo fatto una riduzione, io lo chiamo da asporto, una cosa buona e giusta da asporto perché vedi tutti i ragazzi che avevamo sul palco del Sistina sarebbe impossibile inserirli in qualsiasi altro contesto, noi abbiamo portato questo spettacolo adesso in giro per l'Italia e la versione che è al Golden adesso che era al teatro sette l'altro anno con quattro ragazzi soltanto, però si canta, si balla lo stesso e vedo che i giovani che vengono al teatro rimangono entusiastici, ma questo è il teatro, allora ci voglio venire sempre, è una grande soddisfazione. Questa mi pare veramente un'ottima notizia, tra l'altro molti telespettatori forse non lo sanno ma tu a proposito di portare la gente al teatro, proprio nel momento, negli anni della pandemia, quando i teatri hanno dovuto chiudere, hai fatto una scommessa abbastanza particolare, cioè tu sei direttore artistico di un teatro romano e hai deciso proprio in quel momento lì di aprire un secondo teatro in un quartiere periferico. Sì, siamo Adriano Benicelli che poi è coautore di questo spettacolo e Alberto Rossi, due amici storici, abbiamo deciso di bissare l'esperienza che ho fatto al Teatro 7 e portare, aprire un teatro in un territorio dove i teatri non ce n'erano, quello di Montesacro e abbiamo aperto questo teatro 7 off, molto carino, molto seguito dal territorio, dobbiamo pian piano entrare ancora di più nelle case delle persone, però per esempio i laboratori teatrali sono partiti alla grande, abbiamo il tutto esaurito e non sappiamo più dove mettere la gente, è una cosa bella, gli spettacoli teatrali vengono seguiti e poi cambia da spettacolo a spettacolo, però insomma per noi è importante dare al territorio la possibilità di uscire di casa e assistere ad uno spettacolo dal vivo, perché lo spettacolo dal vivo è unico, è irripetibile, ma io quello spettacolo l'ho già visto, ma non tutti gli spettacoli sono uguali, nonostante lo spettacolo dal vivo ogni sera, ogni replica è una cosa diverso, è uno spettacolo diverso in un certo senso. Noi ci appoggiamo al pubblico, noi cerchiamo di capire gli umori di chi ci sta ascoltando, cavalchiamo la risata, cavalchiamo l'applauso, perciò ci sono delle serate che sono esaltanti, altre serate un po' meno, però anche le difficoltà hanno gli intoppi, il giorno della prima io mi sono chiuso il microfono da solo, perciò a un certo punto c'è il microfono di scorta dietro le quinte, io sono uscito di scena dicendo al pubblico, ho bloccato lo spettacolo, sul finale ho detto aspettate 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 aspettate, perché capivo che stavo andando, noi usiamo il microfono soltanto per le canzoni, però dovevo fare la canzone finale e non c'è un microfono, è stato bellissimo, la gente si è divertita molto in quel momento, infatti stavo pensando di inserirlo tutte le sere. Ah, cambiare addirittura il copione proprio per questo, sarebbe un'ottima idea, tu parlavi prima di difficoltà, riferendoti alle difficoltà che si possono incontrare durante una replica dello spettacolo, però parlavamo prima della pandemia e anche ad altri tuoi colleghi che sono intervenuti in questa trasmissione, abbiamo sempre affrontato un po' quello che è stato il tema di questi due anni e che ha messo in ginocchio moltissime persone, moltissimi settori dello spettacolo. Tu come hai vissuto questi due anni dal 2020 a quando i teatri per forza di cose hanno dovuto chiudere? Abbiamo vissuto una situazione drammatica e inaspettata, fortunatamente il teatro 7 era un teatro con le spalle larghe, perché negli anni avevamo seminato molto bene, il problema è che noi avevamo appena aperto il teatro 7 off, cioè stavamo facendo i lavori e non potevamo bloccare, è stato un inseguire le difficoltà e tuttora non siamo tornati alla normalità, però io voglio vederla in modo positiva, dobbiamo convincere le persone a tornare al teatro, perché è uno dei luoghi più sani che possano esistere, noi ormai abbiamo dei sistemi di purificazione dell'aria che nessun'altra situazione di, se penso agli autobus, ai mezzi pubblici, non è paragonabile quello che accade in un teatro, noi sanifichiamo prima, ozonizziamo, abbiamo ricambito dell'anico continuo, insomma neanche su un aereo, non sono così purificati gli ambienti, e poi voglio dire che c'è voglia di ritornare a vivere delle sensazioni insieme, perciò dico facciamo un piccolo sforzo e non impiegriamoci, tante persone rimangono a casa perché si sono abituate a stare a casa, dobbiamo riportarle fuori e a godere degli spettacoli dal vivo che hanno necessità dell'apporto del pubblico. Tu stai parlando di teatro, credo che sia la tua più grande passione, come giusto che sia, ma ti occupi anche molto di televisione, sei un conduttore come me, meglio di me sicuramente, e sei anche il protagonista di una serie di tv che ha avuto grande successo, se non sbaglio dovrà uscire tra poco la nuova serie, quella di canonico in cui ti si vede nelle vesti di un sacerdote, è una veste in cui ti senti a tuo agio? E ormai sono più il tempo che passo. Infatti l'ho visto in tonaca anche sul palcoscenico. È nato su un palcoscenico questo personaggio di Don Michele, è venuto il produttore Peppe Credoia, dopo avermi visto in questi panni, mi ha detto io ci avrei questa idea di fare una fiction su un sacerdote che parli però della vita vita quotidiana dei sacerdoti, con tutte le difficoltà, con tutte le gioie, i dolori, anche banali che possono vivere gli esseri umani sacerdoti. Io ho detto vabbè facciamo questa fiction. Era la prima fiction di tv 2000 e ci è esplosa in mano, adesso abbiamo finito di girare la seconda serie e andrà in onda penso a marzo. No ma è un buon periodo perché sono tra gli interpreti anche di Tutto chiede salvezza questa nuova fiction di Netflix che sta molto piacendo con la regia di Francesco Bruni e io sono veramente soddisfatto di aver partecipato al progetto perché è molto bello, perché quando io dico che l'arte, il mondo del teatro, del cinema, della televisione dovrebbe educare le persone attraverso l'arte che ci è stata donata, cioè per donare una riflessione, ecco in Tutto chiede salvezza si affronta un argomento molto molto particolare come quello delle case di cura per persone con disabilità mentale e nonostante quello si riesce anche a sorridere, cioè dico bravo Francesco, bravo Daniele Mencarelli che ha scritto il libro dal quale è stata tratta la fiction, insomma e bravi tutti gli attori, bravissimi, eccezionale, io faccio una piccola parte, ma è una gioia essere parte del progetto. Quindi una gioia anche lavorare in tv o lavorare anche al cinema, nonostante non ci siano poi gli inconvenienti o meglio si possano meglio correggere gli inconvenienti del microfono spento per sbaglio. Sì, beh certo, non è buona la Giciri, il teatro è buona sempre e devi saper inventare e andare avanti a tutti i costi, però dico noi facciamo un mese di prove per mettere in scena uno spettacolo, perciò è un lavoro diverso, a me piace molto perché è il rapporto diretto col pubblico e ogni sera tu moduli il tuo modo di recitare in base alla reazione del pubblico, tu capisci subito se il pubblico è attento e come conquistare l'attenzione diciamo dopo quasi 38 anni di teatro inizia a imparare. 38 anni di teatro portati benissimo. Michele, purtroppo il tempo sta quasi per finire, fino a quando resterà in scena a Roma lo spettacolo che stai portando? Fino al 6 novembre vi aspettiamo al teatro Golden che sta a Via Taran, zona appia, ci stanno le fermate alla metro, è uno spettacolo che dura un'ora e mezza, perciò la metro si può prendere anche in uscita dal teatro, è uno spazio particolare il teatro Golden perché non ha un palcoscenico classico, diciamo che il palcoscenico è in mezzo a un'arena, perciò il pubblico è seduto a destra, a sinistra e di fronte, a 240 gradi, però questo spettacolo è coinvolgente, riesce a coinvolgere tutte le persone anche se in modo un po' anomalo rispetto al solito. Io li aspetto, vi aspetto proprio con forza perché questo spettacolo merita di essere visto non solo da voi ma anche dai vostri figli, dai giovani, portate i giovani a teatro, fate riuscire da casa. Famiglie intere che si spostano al teatro, speriamo veramente che sia così, lo spettacolo devo dire, merita assolutamente. Io per ora ringrazio Michele Lagginezza e spero di riaverlo qui con noi a breve. Beh io ben volentieri, intanto ne faccio tanti di spettacoli, perciò mi tocca, mi tocca. Benissimo. E grazie per lo spazio dedicato all'arte. Ci toccherà riaverti ospite allora. Grazie Michele e a presto. Ebbene e si chiude questa prima parte del nostro speciale ma restate con noi perché dopo la pubblicità parleremo di altri argomenti molto interessanti.